Stavolta ci siamo sforzati e la vorremo fare. Questa è una bellissima canzone napoletana, è un po' impegnata perché la dovremo fare in due. È arrivata tarda sera, potevate fare prima questa canzone. A che la vogliamo dedicare? Alla signora Elvira e a tutti quelli che piace questo genere di canzone. Stavolta ci siamo sforzati. 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 Pessoale!